In chi fa il piatto, ci cade la ditta, poi vanno E mi sorrida sopra l'araccia di lassù Coraggiando il panimone di guaggione E poi l'acquare, ci cade, ci cade, ci cade E possiamo fare quello? Diana, Diana! Come sto io? Very good! Sono molto bello, come stai? Sono riuscito, mani sto Oh, dai, 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 dai Oh, non gli uenti, non gli uenti Un bene traccio che li facciamo, se te chiedi, li facciamo battare l'est Spriggetevi un po', senza fare un po' di rumore Se siete pronti, stringetevi l'uno con l'altro Scandiatevi le muscoli, l'uno con l'altro Buona giornata Mario 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 Mario Grazie a tutti.